Dopo Deviso di ieri, oggi Frongia, andate avanti nonostante tutto? Era già comunicato, era già uscita questa cosa su Frongia. Come era già uscito il consigliere? Su Frongia ora vediamo, pare che le cose siano un pochino anche datate, no? Per cui non è di ieri o dell'altro ieri. Dobbiamo vedere anche lì la situazione com'è. Deve andare avanti questa giunta? Assolutamente, assolutamente. Non è giusto, non è giusto che debba fermarsi tutto. Quindi noi andiamo avanti, convintissimi. Su Frongia, ripeto, noi non abbiamo elementi per poter dire che ci sia un reato. Bisogna vedere che cosa significa l'indagine sulla corruzione. L'indagine deve avere degli elementi probanti. Bisogna entrare nel merito, non è che sennò basta fare un'indagine su qualsunque persona. Il movimento di una volta non avrebbe mai parlato così? Ha ragione, ha ragione perché il movimento di una volta non aveva mai governato, non si era mai trovato davanti ai poteri forti, non si era mai trovato evidentemente in queste situazioni. Al di là dei poteri forti è anche una questione di imperizia. Non direi imperizia, io direi che l'esperienza può insegnare alcune cose. Può insegnare che essere indagato, come ha vissuto la sindaca, non significa essere un corrotto. Possiamo. Però se fosse stato un altro partito politico ad avere un assessore indagato per corruzione, il presidente del Consiglio Comunale arrestato per corruzione, il Movimento 5 Stelle sarebbe venuto qui in piazza del Campidoglio a fare l'inferno. Le opposizioni faranno il loro dovere, assolutamente, le opposizioni faranno la loro parte e noi facciamo la nostra. Non siamo come loro, non siamo come chi sparava a zero contro alcune cose. Noi pensiamo che la magistratura debba fare il suo corso seriamente. Siamo garantisti fino alla fine, lo dimostriamo tutti i giorni, però la città merita altro. Penso che la cosa più importante l'ha fatta il capo politico, mandando via subito... Allora perché De Vito sì e Frongia no? C'è anche qui uno squilibrio? Non entro nel merito della questione, no, assolutamente, anche perché non ho letto le carte, vi ripeto, quest'ultima questione non l'ho approfondita, perché stavo facendo una riunione tecnica, quindi non mi sento di commentare. Ma questa vicenda pensa che avrà poi dei riflessi sulla tenuta della Giunta oppure no? Sei ma non fanno la storia, quello che penso è marginale e relativo, è chiaro che bisogna verificare, valutare, vedere. Io e i miei colleghi andiamo avanti, io vedo come lavorano i miei colleghi, mi fido di loro e quindi mi sento serena nell'andare avanti, assolutamente. Non lo so se andremo avanti, non lo so se andremo avanti, è una cosa che andrà adesso decisa e valutata tutti insieme.